E non mi dire non puoi, io lo so che puoi farlo, dimostrarti che ci sarà una strada nuova. Avrai di più di questa malinconia se tu sei consapevole che... Una mano può indicarti la via col coraggio più sincero che c'è. Ma è la tua vita è lì che ti aspetta, che batte anche quando ti sembra perfetta, vedrai. È come un treno, prende di fretta ma puoi, apri il tuo cuore e avrai sempre indietro tutto quella vita. La vita è lì che ti aspetta, che batte ogni istante dal centro del petto perché... C'è sempre un treno da prendere, fretta se vuoi, apri il tuo cuore e avrai sempre indietro tutto quel che dai.